Si è tenuto ieri il presidio organizzato da Movimento Valle d'Ora per far sentire ancora una volta il loro fermo e deciso no sul progetto dell'inceneritore di Cavaglià. La data e l'ora del presidio coincidono perfettamente con l'incontro organizzato per la giornata di ieri da Cosrab, nel quale è stato presentato a sindaci ed amministratori il progetto dell'inceneritore. E no, questa non è una casualità. Nel corso della manifestazione sono intervenute diverse personalità, tra cui Alba Riva, presidente di Associazione Valle d'Ora, che precisa La Valle d'Ora non è una landa desolata che si può sfruttare all'infinito come pattumiera. Nella zona ci sono luoghi bellissimi che stanno conoscendo una riscoperta e una rinascita. Abbiamo già subito decenni di escavazioni e discariche. La costruzione di un inceneritore sarebbe veramente troppo. E conclude Per risolvere i problemi dei rifiuti prodotti nel biellese, non si può sacrificare all'infinito un'area così attrattiva. Sul tema dell'incontro organizzato a Cosrab, ha preso la parola il sindaco di Alice Castello, Luigi Bondommo. Esprimo solo una speranza. Quella che dietro alla riunione di Cosrab non si celino elementi di pressione e forzatura verso la decisione degli enti preposti. Ribadire non guasta mai. La Valle d'Ora, con le sue comunità, merita ambiti di sviluppo diversi. La storia di questi ultimi 30 anni decreta che ne hanno diritto. Presenti al presidio anche Lega Ambiente Biella Evrea, la Lega Italiana Protezione Uccelli, il Comitato Salussola Ambiente e Futuro, l'Associazione Onda Verde di Biella. Questo ovviamente ha testimonianza che la questione è sentita ben al di là dei comuni di Cavaglià e di Santià.